L'aggiornamento sulle notizie di Senigallia Web TV mercoledì 26 di ottobre, ben trovati Pubblicato un primo bando di vendita per attuare il piano alienazione terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Marche, tra questi anche gli ex uffici IAT in Piazzale Morandi a Senigallia. La Giunta regionale, dice l'assessore al patrimonio Fabrizio Cesetti, ha individuato nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare disponibile gli immobili e i terreni che intende alienare in quanto non più riconducibili a fini istituzionali o non altrimenti valorizzabili. La cronaca. Il lato B di un insegnante mentre camminava tra i banchi di scuola è stato immortalato dal cellulare di uno studente postato sulla chat di WhatsApp. Quel ragazzino di terza media lo teneva nello zainetto e non avrebbe dovuto accenderlo in classe. Ora il preside dovrà valutare quale misure prendere nei confronti dello studente Wire che pochi giorni fa ha violato l'embargo dei telefonini in classe e ha mancato di rispetto alla sua professoressa, diffondendo immagini carpite con l'inganno. La festa di compleanno rovinata dall'incursione dei ladri che hanno fatto razzia di portafogli, borse e hanno rubato pure una moto. È accaduto sabato sera nell'area verde del Rosciolo a Borgoribeca, dove era in corso una festa di compleanno a cui hanno partecipato anche molti minorenni. Ai ragazzi non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Con il saluto del sindaco Maurizio Mangialardi è stato inaugurato all'auditorium di San Rocco di Senigallia il nuovo anno accademico della Libera Università per adulti. L'edizione numero 28 della LUAS propone un'ampia e interessante offerta culturale con un corpo docente altamente qualificato. 28esimo anno della LUAS, un anno di grandissima qualità che passa attraverso un ringraziamento al professor Ferraris e al comitato scientifico per aver messo in campo una proposta che coinvolge, che arricchisce e che mette a disposizione di tutti un grande progetto culturale. L'abbiamo aperta oggi ricordando il professor Moroni, un artefice determinante della cultura di Senigallia. Cambiamo pagina. Il capolavoro di Leonardo da Vinci, la Vergine delle Rocce, già collezione Cherami, cui è dedicata la sezione speciale dell'attesissima mostra Maria Mater Misericordia. Si è giunto questa mattina a Senigallia. Dopo l'espletamento delle pratiche burocratiche da parte dell'Agenzia delle Dogane, la Vergine delle Rocce è stata collocata nella sua sede espositiva, dove da venerdì 28 ottobre sarà visibile al pubblico insieme alle opere dei maggiori artisti rilascimentali provenienti dalle più prestigiose raccolte museali. Ultimo appuntamento giovedì 28 alle 17.30 con il quattordicesimo ciclo degli incontri con la storia, la rassegna storico-culturale promossa dall'Associazione di Storia Contemporanea in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Senigallia. Al centro del pomeriggio il libro Leda, la memoria che resta, di Anna Paola Moretti e Maria Grazia Battistoni. Si parlerà di una giovane e coraggiosa donna, la fanese Leda Antinori, staffetta partigiana capace di scelte determinate e vittima del nazifascismo. Summer Jambori numero 18. Ufficializzate le date dell'edizione 2017. La notizia lungo attesa da operatori turistici e dal pubblico internazionale, già in procinto di organizzare le proprie vacanze a Senigallia, in occasione della prossima edizione è stata ufficializzata in concomitanza con il rinnovo della Convenzione tra l'amministrazione comunale di Senigallia e l'organizzazione del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni 40 e 50 per il quadriennio 2017-2020. Confermo, tutto confermato. Sono finalmente uscite le date del Summer Jambori 2017, edizione numero 18, dal 26 luglio al 6 agosto. Rilanciamo sui giorni di pre-festival che da uno passeranno a tre. E quindi due giorni in più di festival, due giorni in più di Summer Jambori. In chiusura, le condizioni del tempo. Di giovedì 27, cielo possibile ancora una prevalente nuvolosità a sud al primo mattino, mentre a nord si prevede la presenza di dissolvimenti e rassarenamenti. Le precipitazioni anche di buona intensità e diffusione nel corso della notte, specie sulle province meridionali. I venti a divenire moderati da nord-est le temperature, inavvertibile calo per tutto il giorno. Previsioni fornite dal Servizio Agrometeo Regionale dell'Assam. Grazie per averci seguito, anche per oggi è tutto. A domani.